professoressa buongiorno un lavoro diverso oggi oggi un lavoro diverso ma importante perché questa è educazione civica io di solito insegno la matematica ma oggi abbiamo imparato come si deve vivere insieme e soprattutto lavorare insieme per la nostra città e è importante anche sapere proprio lavorare in squadra anche in queste piccole cose la professoressa maria teresa becchile insegna matematica all'istituto facinotti per oggi appunto sta facendo educazione civica in piazza del carmine con i suoi ragazzi con i miei ragazzi nella casa che ha le mie spalle dove vivo e che è stata un po' distrutta devo dire distrutta come è stata distrutta piazza del carmine come è stata distrutta piazza del carmine si purtroppo vabbè però rinascerà i ragazzi che l'hanno aiutata stamani di che classi sono sono due classi quinte quinta cma e quinta bma poi ho visto anche una sua collega la professoressa russo e professor ruggirello perfetto una quarantena di sacchi neri riempiti fra calcinacci e residui e alberi purtroppo residui di alberi bene grazie buon lavoro grazie a voi buongiorno grazie a voi